Ecco, queste sono le ultime cose che conosciamo, perché la dottoressa Boccia poco fa ha postato questo su Instagram, la potenza, sì la musichetta, la musichetta non è che l'ho messa io, la musichetta, eh no ridete perché voi dici no, la musichetta l'ha messa lei, la potenza è nulla senza controllo, è molto tua però come musica, e poi ha ripostato l'intervista, chissà che messaggio cosa vuol dire questo, la potenza è nulla senza controllo, sembra un messaggio rivolto alla Presidente del Consiglio, ormai è un ping pong tra Meloni e la dottoressa Boccia. Alex Fiumara aggiungiamo un altro quadro, un altro pezzetto al racconto, tu sei stato il primo fotografo a immortalare il duo più in vista, voglio partire da questo, da quanto tempo si sapeva della storia, che non sapevamo neanche che tipo di storia sia, perché San Giuliano dice una cosa, lei ne dice un'altra, noi non vogliamo entrare nel merito di quel che accade, ma di questa diciamo così relazione, incontro, da quanto tempo si sapeva? Allora guarda Varenzo, ti dico, io ho fatto il servizio insieme al collega Massimiliano Scarfone di Roma, entrambi veniamo a sapere della notizia, è una fontanonima, i primi di luglio, l'informazione era molto semplice, era guarda che il Ministro San Giuliano ha l'amante, noi sapevamo che fosse felicemente sposato la dottoressa Corsini, al che ci mettiamo a lavorare per verificare questa informazione, quindi diciamo i primi di luglio, noi veniamo a sapere questa notizia. Dai primi di luglio, dai primi di luglio, diciamo queste foto, quelle che avete fatto con il tuo collega di Roma, per quel che si può dire, che cosa raccontano? Allora, le foto risalgono innanzitutto al 16 di luglio a Sanremo e raccontano praticamente una giornata del Ministro San Giuliano con la signora Boccia a un evento appunto vicino al Casino di Sanremo, dove c'è una presentazione di un libro. La cosa che noi notiamo, io e Massimiliano Scarfone, che notiamo e che facciamo presente, è che in quell'occasione il Ministro non aveva la fede. Noi lavoriamo con degli obiettivi molto lunghi. Ecco, facci vedere, scusami, giusto per capire, per far capire anche il nostro ride Bonelli, ma così facciamo vedere quali sono gli strumenti del mestiere che avete. Voi avete, hai portato la tua macchina fotografica, eccolo qua. Mamma mia. Falla vedere. È un cannone. Ah, eccolo qua, questo di bensì. Ebbè, insomma. E quindi voi lavorate, diciamo, non è che passi proprio inosservato, caro... No, però hai ragione, Perenzo, però guarda, ti dico una cosa, il servizio della Boccia, io e Scarfone l'abbiamo fatto con questo obiettivo qua, che è un pochino più piccolino. Beh, insomma, sì. Scusami, Fiumara, aspetta solo un secondo. Ti chiedo scusa perché...